Oh, buggato a chi? Buggato ci sarai te, c'ho mica scritto Cyberpunk in front... Ah. Cameam e ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Amont e oggi siamo qui per un video che mi avete chiesto veramente in tanti e sono contento di questo. Cioè parliamo di Cyberpunk 2077. Sì perché tanti di voi mi hanno chiesto di farlo vedere su PlayStation 5, tanti altri in realtà mi hanno chiesto di farlo vedere su Xbox Series S. E dato che posseggo entrambe le console, perché non approfittarne? Quindi nel video di oggi andremo a vedere le principali migliorie apportate al gioco dopo la patch 1.5 e ovviamente l'upgrade next gen. Per farci un'idea di come è stata migliorata la risoluzione o il framerate in questo discussissimo gioco. Prima di iniziare ragazzi lasciatemi dire però che se siete interessati a chiavi di gioco a prezzo scontato potete trovare il mio link di affiliazione Instant Gaming qui sotto in descrizione. Bene ragazzi grazie per l'attenzione, a sto punto che dire, bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo a vedere questa next gen. Bene ragazzi prima di iniziare a vedere il gioco sulle console vi faccio una piccola infarinatura. Per quanto riguarda PlayStation 5 come potete vedere in modalità performance, quindi in modalità prestazioni, abbiamo ovviamente gli fps sui 60 frame con qualche calo a quanto c'è scritto e il 4k dinamico. Per quanto riguarda invece la modalità ray tracing abbiamo un 4k dinamico come risoluzione, 30 fps che poi andremo a vedere se sono davvero 30 e ovviamente una maggior illuminazione e ombre meglio ottimizzate. Invece su Xbox Series S vorrei dire qualcosina ai sviluppatori perché sinceramente a mio parere Xbox Series S si meritava molto di più. Cyberpunk 2077 su Series S gira a 30 frame al secondo con una risoluzione a 1440p. Ecco a mio parere hanno voluto spingere troppo sulla risoluzione su Series S perché bastavano, secondo me, 1080p e un frame rate che magari non fosse ancorato a 60 però che ci girasse attorno. Perché secondo me la console ce l'avrebbe fatta tranquillamente, ve lo posso dire io per esperienza che ci ho provato su veramente tanti tanti giochi. Detto questo ragazzi non vi rubo altro tempo, direi di partire dalle principali novità partendo da PS5. Bene ragazzi eccoci su PlayStation 5, andiamo a vedere una delle tante novità, il poter modificare il nostro appartamento. Mi ispira questo. Vediamo un po'. Tac. Caricamento già fatto fra l'altro. Ecco. Ah. Carino. Carino. Cos'è? Tipo un verdino. Un verde lime. Bellino. Gli praticamente l'appartamento rimane uguale però potete modificarne il colore che insomma. Bene a questo punto direi ragazzi di vedere un'altra cosa, cioè vediamo anche i nuovi appartamenti. appartamenti quindi facciamo così 15.000 ma sì un calcio alla miseria via ok ragazzi eccoci arrivati vediamo com'è allora appartamento di japantown affittato dove lo stile incontra il carattere accomodati fermati un po e goditi l'atmosfera orientale qualcosa di messicano ovviamente abbiamo le classiche cose cioè dove possiamo nascondere le nostre armi insomma roba molto classica il letto questa è una parte molto orientale l'altro dove possiamo bruciare l'incenso subito dopo aver fatto un paio di scorreggine e via possiamo sedere che è un'attività sicuramente interessante da farsi in questo gioco possiamo ovviamente docciarci momento sexy e novità delle novità possiamo suonare la chitarra vediamo un po suoniamo quella di johnny momento rock ragazzi puoi continuare a suonare suonare un'altra vabbè chi se ne frega comunque carino carino ma è che sono qua ragazzi ne approfitto e andiamo a vedere un'altra delle novità cioè guardandosi allo specchio adesso possiamo fare un paio di cose in più innanzitutto questo è il mio personaggio non so chi se lo ricordasse dal precedente video e adesso oltre a cambiare l'espressione facciale innanzitutto un sorriso per tutti voi a parte questo possiamo anche andare a modificare l'aspetto come vedete possiamo andare a reimpostare l'aspetto di v cosa che in realtà fino a prima potevamo fare solo all'inizio del gioco e poi non potevamo più modificarlo ecco come vedete l'ho modificata adesso praticamente sembra un'altra persona l'unica cosa ovviamente non potete far diventare una donna un uomo o viceversa ok che sia chiaro bene a questo punto passiamo alla parte next gen del video siamo con ray tracing attivo e 30 frame per secondo sicuramente l'illuminazione devo dire che anche i riflessi sono molto molto buoni l'illuminazione generale è ottima facciamoci un giretto innanzitutto ragazzi devo dire che vedo già molta più gente del solito ok vediamo questa scritta beh sì sicuramente l'illuminazione è ottima andiamo a rivedere le stesse cose magari in modalità prestazioni così vediamo che cosa cambia andiamo a cambiare non non vedo un enorme cambiamento cioè i riflessi ci sono comunque la differenza mi sembra minima ecco l'unica cosa che cambia che magari in modalità prestazioni la gente si sente talmente più veloce ed elevata addirittura da essere sollevata dal pavimento ciao sei più alta insomma come dire vola basso ecco allora vediamo qua invece posso dirvi ragazzi non ci vedo una grande differenza io direi di continuare il resto del video in modalità prestazioni mi sembra sinceramente per l'appunto come dicevo anche prima più popolato più diversificato perché non al momento riesco a cogliere similitudini fra i personaggi non giocanti cioè non vedo troppe persone uguali fra loro e persino i buddisti qua i figli di buddana mi sembrano abbastanza diversi fra loro scusa io capisco tutto però tu la mangi così la pizza ci appoggi sopra il gomito le braccia ma no adesso quando si dice che a tavola non dovresti mettere i gomiti sul tavolo vale soprattutto per il cibo non anche per il cibo ma soprattutto ora direi di passare invece a xbox rs bene ragazzi eccoci su xbox rs prima di continuare vorrei ricordarvi visto che non l'ho fatto prima che city project ha reso disponibile una prova gratuita di cyberpunk 2077 per ben cinque ore di gioco ovviamente una volta acquistato il gioco potrete mantenere i vostri salvataggi e continuare la vostra partita quindi se avete una console next gen che sia serie s playstation 5 o xbox serie x potete scaricarlo tranquillamente e giocare per ben cinque ore che comunque non sono poche per valutare il gioco allora siamo alla scelta del personaggio visto che dall'altra parte abbiamo un personaggio femminile direi che a sto giro ne crea uno maschile ok ragazzi personaggio creato direi che possiamo iniziare allora ragazzi visto che qua abbiamo una sola modalità grafica devo dire che i 1440p sicuramente sono evidenti il gioco è molto bello da vedere su serie s comunque devo dire che xbox rs non sarà cava male per niente cioè e potete vedere coi vostri occhi soprattutto se avete mai giocato le versioni all gen che a parte i 30 frame non è per niente paragonabile alla versione all gen ok i 30 frame si vedono la differenza rispetto alla modalità prestazioni è evidente ma per quanto riguarda quello che vedo non è che siamo poi così lontani dalla modalità retracing per quanto riguarda i 30 fps anzi forse qua i 30 fps sono anche più stabili da quello che ho visto prima in modalità retracing sembrano 30 fps che diventano facilmente 26 27 ma invece mi sembrano 30 ragazzi anche qua niente da dire si vede veramente bene scatti non ne ha bene ragazzi qualcosina ve l'ho mostrato adesso sceglierò bene magari le parti da mostrarvi però per adesso passiamo a playstation 5 bene ragazzi siamo tornati su playstation 5 perché ora di vedere come è stato migliorato il sistema di guida e come è stato fatto implementato il dual sense in tutto questo allora questo è il mio magnifico ferro e direi di andare a fare un giro è piccolina ma è scattante di brutto sicuramente il sistema di guida mi sembra migliorato rispetto a prima comunque non era già male il retro compatibilità con ps5 però mi sembra anche un po più stabile la macchina mi sembra più ancorata al terreno ecco per quanto riguarda il dual sense ragazzi vi posso già dire che è stato veramente ben ottimizzato cioè in parole povere sentiremo la differenza praticamente del diciamo terreno sotto ai nostri piedi quindi se asfaltato o sterrato o anche in questo caso ecco sento una vibrazione diversa a parte ad essermi schiantato e in più per quanto riguarda i grilletti adattivi sentiamo veramente una resistenza quando andiamo ad accelerare e quando andiamo a frenare una cosa molto bella sentiamo veramente le marce che cambiano sia in qualità di vibrazione sia per quanto riguarda la vibrazione del grilletto che a volte a seconda del mezzo soprattutto se veloce fa uno scatto che ti dà la sensazione della marcia che viene cambiata quindi a sto punto prova superata sotto questo punto di vista da playstation 5 direi di passare a xbox rs bene eccoci tornati su xbox rs direi di fare un giretto in macchina anche qua vediamo un po come se la cava il frame rate e tutto il resto allora sinceramente nonostante quei giri a 30 frame al secondo mi sembrano comunque assolutamente stabili cioè mi sembra proprio ancorato sui 30 frame al secondo quindi non è sicuramente oddio dicevo non è sicuramente paragonabile alla versione all gen abbiamo un'esperienza next gen con un unico limite del frame rate anche se come ho detto in apertura a mio parere cd project sotto questo punto di vista potrebbe fare sicuramente di più qui adesso siamo in autostrada e devo dire che anche la quantità di mezzi su strada è elogiabile quindi prova guida xbox rs assolutamente a mio parere superata direi a sto punto di tornare a playstation 5 per vedere qualcos'altro e io mi diverto troppo a iniziare con la katana e vediamo come si comporta la gente e se è cambiato il loro atteggiamento ai nostri confronti una volta dando un colpo di spada a uno di questi ne sarebbero scappati due o tre e tutti gli altri sarebbero rimasti lì fatto c'è da dire che sarebbero state anche molti di meno ecco una cosa stupida che fanno come vedete è quella di ammassarsi inutilmente sembra la gente all'inizio del covid dentro i centri commerciali ma va bene ciao ecco questo per esempio sembra quasi che mi volesse attaccare vediamo ecco mi sembra un po più coerente alla siccia guardate quanta gente che scappa sembra un po più coerente comunque la situazione rispetto al passato a abbiamo la polizia e ha perso la testa per me mi sembra che sia stato anche siano stati un po nerfati i poliziotti visto che prima erano overpower si cosa sta infilzando l'aria andiamo con qualcosa di un po più semplice passiamo alla mera minaccia vediamo come reagiscono quindi c'è una sensazione iniziale di paura addirittura abbiamo come avete visto un npc normalissimo personaggio non giocante normalissimo armato la gente investe la polizia perché perché ha paura quindi insomma fino a qua ci siamo ancora con la coerenza allora vediamo adesso le reazioni degli automobilisti ciao ok sembra effettivamente spaventata mentre prima io potevo stare qui due ore con un fucile in mano a puntare la gente che non gli fregava niente a nessuno invece adesso anche se con i loro tempi è con molta calma però scappano salve grazie che la gente che vola c'è ancora gente che rimane attaccata alla macchinetta c'è ancora e vabbè ti ho rubato gli spicci che dobbiamo fare te li presto io se vuoi devo dire che comunque insomma i poliziotti ci inseguono in maniera abbastanza coerente la gente ha reazioni sicuramente un po più credibili a questo punto direi di vedere la stessa cosa su xbox serie s ok ragazzi eccoci tornati su xbox serie s per rivedere un po magari lo stesso punto ma come vedete la differenza anche qua non è che sia poi abissale fra serie s e playstation 5 lì abbiamo jacky che ci aspetta in realtà perché siamo veramente agli inizi ma innanzitutto come vedete anche qua rimangono dei maleducati in questo gioco proprio non gli hanno insegnato la regola del gomito nel piatto ma va bene quindi anche qua la densità di popolazione comunque non mi sembra per niente bassa proviamo a vedere anche qua come si comporta la gente soprattutto le donne scalze come questa qua quando le andiamo a minacciare e proviamo a fare un po di casino per vedere come se la cava il gioco con il coltello secondo me vediamo così è una minaccia no no non devo pisciare ti stavo minacciando vabbè e se tiriamo fuori una pistola ok a parte una compenetrazione che ho appena visto lui si arrende direttamente non scappa quindi come vedete hanno anche reazioni diverse gli uni dagli altri ecco anche qua abbiamo gente comunque che ci minaccia e che decide di difendersi comunque reazione molto realistica vediamo gli automobilisti anche qua ciao ti punto una pistola anche mi scappa bravo bravo hai capito che comanda non vedo nessun calo non vedo niente di particolare sotto questo punto di vista mi sembra cavarsela egregiamente xbox rs ti va di morire non riesco a tagliare la testa col coltellino dai vabbè ciao sarà qualche spiccio ce l'hai o no alla capita dopo ok va bene direi che su questo possiamo chiudere bene ragazzi siamo arrivati alla fine del video direi di ricapitolare un po quello che abbiamo visto partendo da playstation 5 come avete potuto vedere l'upgrade next gen su playstation 5 gira che è una meraviglia io come vi ho già consigliato prima la modalità ray tracing sinceramente non la prenderei neanche in considerazione passando a una nota ben più triste per quanto mi riguarda a xbox rs invece come avete potuto vedere ci sono una cosa positiva una cosa negativa riguarda questo quella negativa ve l'ho già detto un po all'inizio del video cioè come avete potuto vedere il gioco si vede che è una meraviglia per quanto mi riguarda su serie s adesso tralasciate il confronto con playstation 5 però si vede da dio l'unica pecca qual è allora che proprio perché si vede da dio a mio parere abbassando da 1440 a 1080 si arrivava tranquillamente ragazzi non vi dico ai 60 frame al secondo fissi e lisci ma ai 40 o ai 50 ci si poteva puntare veramente a occhi chiusi quindi peccato per serie s ma questo non è un problema della console ve lo dico io è un problema del team di sviluppo che non ci ha voluto perdere altre due o tre settimane solo puntando su serie s perché su serie s purtroppo puntano veramente in pochi direi che ho detto un po tutto ragazzi io intanto vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video se il video vi è piaciuto aiutatemi lasciando un like così da spargere un po il verbo ovviamente l'invito è sempre quello di iscriversi al canale cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati io il mio personaggio qui presente vi salutiamo ovviamente l'appuntamento è un prossimo video e come sempre ragazzi cameame ciao ciao